la difficoltà dell'organizzatore, o comunque di quello che si fa. Grazie mille. Io trasmetto passione perché cammino, corro, e vedere la gente che va a correre, che è organizzata, sta quasi per scherzo durante la saga, questo 13 mila, mi darci solo gioia. Dipende a vedere ancora di più i bambini che corrono.